La gara è difficile ma si sapeva insomma si sapeva comunque una squadra di serie B una fasciata di serie B quindi sapevamo però noi era un test importante per noi perché arriviamo da due settimane di ritiro tosto e secondo me abbiamo fatto la prova della prova Sensazioni dopo questo ritiro estivo? Ma è stato un ritiro importante, un ritiro per fare il gruppo, siamo stati bene e abbiamo lavorato tanto e secondo me possiamo prendersi di soddisfazione Manca ancora qualcosa, com'è l'intesa là davanti con Unachello? Oggi non ho giocato per un po' di meno adottore però insomma non devo presentarlo io Unachello, insomma un giocatore importante per questa categoria e speriamo insomma ci possa dare una grossa mano quest'anno Il gruppo che venite a nascere tu, capitano, come lo vedevi? Ma è un gruppo bellissimo, un gruppo sano e un mix di stagioni vecchi importanti e la rosa non è ancora completata però in questo ritiro insomma ci siamo divertiti oltre ad averlo lavorato tanto Il rapporto con Corrent come l'hai visto in queste settimane? Ma il mister è un uomo diretto e un uomo che piace giocare la palla e stiamo lavorando bene, ci dà serenità e dobbiamo seguirlo in tutto e per tutto e secondo me faremo bene